E' stato nuovamente il giorno di Luca Bronchi, l'ex direttore generale di Banca Etruria tornato in aula oggi per rispondere alle domande della pubblica accusa sul crack dell'Istituto di Credito Aretino. L'ex direttore generale accusato di banca rotta fraudolenta aveva optato assieme ad altri quattro imputati per il rito abbreviato. Per la pubblica accusa all'interno dell'Istituto di Credito ci sarebbe stato un governo ombra che prendeva le decisioni fondamentali sulla strategia della banca a cui avrebbero partecipato l'ex presidente Fornasari, i suoi vice in Ghirami, Guerrine ed infine Bronchi, tagliando fuori il vero CDA ridotto così a un mero organo di ratifica. Emerge che le operazioni all'epoca deliberate erano pienamente giustificabili ed erano tutte garantite e potevano essere giudicate in un abito di ragionevolezza. Direi che anche dal controesame non sono emerse delle contestazioni che possono dimostrare certamente il dolo. L'ex presidente Giuseppe Fornasari è invece rilasciato in aula delle dichiarazioni spontanee. Ha specificato che è stato il ruolo del presidente all'interno della banca e rapporti con il CDA. Poi ha ricordato come la banca d'Italia aveva sollecitato la banca turi a effettuare la fusione con la Vicenza, che il vecchio consiglio stava portando avanti e che poi viceversa il nuovo consiglio non ha ritenuto di dover seguire. Il processo adesso proseguirà ad ottobre con la requisitoria da parte dell'accusa, la replica degli avvocati ed infine la sentenza del gruppo del Tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia. Di fatto abbiamo solo l'udienza del 2 ottobre e poi all'esito di quella valuteremo quando, cioè il giudice ci proporrà delle date e valuteremo quando poter parlare noi.